Ciao, bellissima è la presenza fisica di Gesù, per cui le donne che sono stupite di questo che lui parla, invidiano quasi alla Maria, che era così vicino al suo figlio, che poteva fargli crescere, che poteva essere più vicino di possibile. E quindi Gesù dice, questo non è fino alla storia, potete voi tutti avere questa intimità con me, potete tutti voi avere questa vicinanza con me, come mia madre aveva con me, anche voi, quando ascoltate me, quando portate, forse non in grembo Gesù, ma portando queste parole dentro il nostro cuore, facendo tutto possibile per metterle in pratica. Grazie.